La Parashat di Devarim si legge ogni anno alla vigilia del giorno di Tisha B'Av quindi coincide con un momento molto triste, con un momento più austero del nostro calendario e è fatta in modo da metterci di fronte alle nostre responsabilità è un titolo e anche una storia paradossale quando Mosè viene chiamato alla sua missione e dice che lui non è in grado di parlare è un intero libro che comincia appunto con le parole per Devarim viene scritto con i discorsi di Mosè noi abbiamo presente questo esempio nel quale c'è una grande modestia iniziale che poi sfocia i messaggi importanti e dovrebbe essere un po' una guida al nostro comportamento anche dalla persona più modesta e in quanto è modesto escono fuori insegnamenti fondamentali e dobbiamo soprattutto tenerli presenti in questi giorni che sono particolarmente austeri non soltanto per il ricordo del passato ma per le difficoltà del presente grazie a tutti